Un caro saluto a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con C-Informi News. E' partito da qualche giorno il quindicesimo censimento della popolazione residente in Italia. Ogni cittadino dovrebbe ricevere a casa entro il 22 ottobre il questionario sulla base delle iscritte all'anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre 2010. E' possibile compilare il questionario in formato cartaceo in versione elettronica via internet. Se dopo il 20 novembre non è stato consegnato spontaneamente il questionario, saranno i rilevatore a far vista nelle case per raccogliere i moduli. Per chi non restituirà il questionario completo sono previste sanzioni pecuniarie e l'eventuale cancellazione dai registri della popolazione residente. Da parte dell'ufficio anagrafe. Maggiori informazioni sul sito www.cinformi.it Il presidente del consiglio ha firmato nei giorni scorsi il decreto che proroga di sei mesi i permessi di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini nordafricani e arrivati in Italia tra il 1 gennaio e il 5 aprile 2011. Il provvedimento è stato elaborato d'intesa con il ministro degli esteri Fratini, dell'interno Maroni, dell'economia Tremonti e del lavoro Sacconi. Il decreto è stato pubblicato sulla gasetta ufficiale dell'8 ottobre scorso. Una vittoria della solidarietà, un dovuto riconoscimento al fondamentale ruolo che tutte le donne africane hanno nel garantire ogni giorno, con il loro impegno e spesso in situazioni di emergenza, la sopravvivenza non solo delle loro famiglie, ma delle stesse comunità di cui fanno parte. E questo è il commento dell'assessore alla solidarietà internazionale e alla convivenza della provincia autonoma di Trento, Lia Beltrami-Giovanazzi, alla notizia dell'assegnazione del Nobel per la pace 2011 a due donne africane e a un'emmenitta. Ricordiamo che il Nobel è andato alla presidente liberiana Ellen Johnson Sirlef, alla sua compatriota Leymar Boe e alla emmenitta attivista per i diritti civili Tavakul Karmani. Conoscere meglio le tradizioni, la cultura e la storia della comunità ucraina che vive in Trentino e questo è il principale obiettivo del Festival Ucraino che si svolge dal 9 al 14 ottobre a Trento e Roveretto, organizzato dall'Associazione Cristiana Culturale dell'Ucraina in Trentino Rasom, in collaborazione anche con il CINFORMI. L'idea di organizzare Ucraina, festival nata in occasione del ventesimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. In programma conferenze, eventi pubblici, mostre e concerti nelle strutture per gli anziani e i centri diurni di Trento e Roveretto. Tutti i dettagli sul sito del CINFORMI. E anche per questo appuntamento è tutto, grazie per averci seguito. Una buona settimana a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.